Capita a tutti, prima o poi, di fraintendere uno sguardo, una parola, un gesto e di rispondere in modo spropositato a quello che sembrava un insulto e che invece era, che ne so, una battuta innocente. Antonello Venditti, durante un suo spettacolo, ha pensato di sbeffeggiare quello che credeva essere un disturbatore. Quando gli hanno spiegato all'orecchio che era una persona speciale, non ha capito bene. Il presunto disturbatore era in realtà una donna, una donna disabile. Al momento, imbarazzato e confuso, Venditti ha balbettato le prime parole che gli sono venute in mente, cercando, per quanto possibile, di chiudere l'incidente. Ma i leoni da tastiera erano in acquato e, nei giorni seguenti, lo hanno sbranato senza pietà. Sul quotidiano La Stampa, perfino il giornalista Nicoletti ha infilzato il cantante definendo le sue scuse tardive e superficiali. Caro Nicoletti, anche i genitori della donna disabile hanno capito l'equivoco. La tua esperienza non ti consente di insistere su una vicenda che loro preferivano chiudere lì, senza chiasso e in pace.